Buona domenica mattina a tutti, ben trovati in questa nuova puntata della Cine Week, la rubrica a cadenza settimanale che ci permette di andare a riepilogare, andare a fare il punto della situazione su tutti quelli che sono stati contenuti del canale durante la settimana che è appena trascorsa, quindi faremo appunto una sorta di recap per tutti coloro che magari si fossero persi per strada qualche video, chiaramente li trovate nel canale, oggi li andiamo appunto a ricordare procedendo chiaramente dal lunedì fino ad arrivare alla giornata di ieri. Prima di continuare io rapidamente vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale gesto semplice, rapido ma molto importante e poi per supportare questo video lasciate anche un vostro mi piace condividetelo, commentatelo con tutte le vostre opinioni. Detto questo io direi di iniziare appunto a fare questo riepilogo questo recap a partire dalla giornata di lunedì e nella giornata di lunedì in particolar modo ho voluto pubblicare una videorecensione, una videorecensione di un film tra l'altro presente credo ancora nelle sale in maniera abbastanza diffusa anche se negli ultimi giorni le sale d'Italia sono state praticamente monopolizzate da Inside Out 2 ma il film in questione è The Watchers, film di Isshana Shyamalan, chiaramente figlia d'arte di M. Night Shyamalan un film che mi aveva incuriosito, come dico appunto anche nella videorecensione, mi aveva incuriosito perché? perché ne ho sentito parlare davvero malissimo nel corso degli scorsi giorni ma in alcuni casi ho trovato anche delle recensioni positive senza trovare quasi delle vie di mezzo, il film a me in realtà è risultato soddisfacente chiaramente non un capolavoro, non un film indimenticabile, non il miglior film horror degli ultimi tempi ci mancherebbe altro, ma neanche quella straordinaria monnezza di, come dire, proporzioni bibliche di cui stanno parlando in tanti no, niente di tutto ciò, per me è stato un film anzi gradevole, godibile, con diverse forzature narrative ci sono tante cose che non tornano, è un film per molti aspetti ancora anche abbastanza acerbo, immaturo ma ricordiamoci anche che l'opera prima, l'opera d'esordio di Isshana Shyamalan, quindi figlia di Emna Shyamalan quindi ci sarà tutto il tempo per lei per poter migliorare, per quanto non sia un film neanche particolarmente originale per me comunque ha delle atmosfere, ha degli spunti anche dal punto di vista tecnico che mi hanno comunque conquistato quindi non riesco in nessun modo a bocciare The Watchers, quindi io vi consiglio eventualmente di recuperarlo se siete chiaramente anche dei fan dell'horror, se siete degli amanti del genere non vi aspettate, ripeto, il filmone dell'anno, non vi aspettate il miglior horror degli ultimi tempi ma per me è tutto tranne che è un film orribile, come stanno dicendo tante persone quindi ho voluto promuoverlo, ho voluto parlarne, quindi trovate la mia video recensione proprio nella giornata di lunedì qui nel canale. Procedendo alla giornata di martedì ho voluto pubblicare un nuovo aggiornamento di quella che è la collezione che vedete sempre alle mie spalle siamo arrivati alla 27esima puntata di una rubrica storica del canale ormai una rubrica che dimostrate sempre di apprezzare ho voluto mostrarvi quelli che sono stati i miei più recenti acquisti quelli che sono stati anche un paio di regali che mi sono stati portati mi sono stati più che altro inviati da un utente iscritto al canale, Alessia che ringrazio nuovamente alcuni arrivi anche da parte della Plion Pictures che non smetto mai di ringraziare proprio per potermi permettere di avere in collezione alcuni di quelli che sono i suoi film distribuiti in Italia quindi ho voluto aggiornarvi su alcune pellicole anche molto differenti le une dalle altre e quindi darvi anche degli spunti nel caso in cui foste interessati ad acquistarli quindi nella giornata di martedì abbiamo parlato praticamente di On Video che è la mia passione nella passione, quindi una passione in quello che è l'amore per il cinema e che voglio condividere sempre con voi nella giornata di mercoledì ho voluto pubblicare una video recensione che sapevo non avrebbe fatto chissà quali grandi numeri qui nel canale perché non è un film inedito, non è un film particolarmente conosciuto non è un blockbuster, niente di tutto questo però io vi invito comunque ad andarla a vedere ed è la video recensione del film Sideways in viaggio con Jack un film di Alexander Payne di ormai 20 anni fa e come ho detto anche in sede di recensione mi vengono i brividi pensando che ormai sono passati 20 anni dalla realizzazione di questo film abbiamo un bravissimo Paul Giamatti, protagonista principale tra l'altro una collaborazione tra Payne e Giamatti che abbiamo rivisto, abbiamo nuovamente trovato proprio negli scorsi mesi con il meraviglioso film The Old Rovers ma Sideways in viaggio con Jack è un film on the road a cavallo tra la commedia e appunto il genere on the road che mi fa sempre impazzire una meravigliosa pellicola, un gioiellino che dovremmo riscoprire ho cercato in qualche modo di parlarne di lasciare anche una traccia qui nel canale sempre anche nell'ottica di esaltare la bravura di un attore secondo me sempre sottovalutato come Paul Giamatti quindi nella giornata di mercoledì ho pubblicato questa video recensione la trovate nel canale datele un'occhiata perché secondo me vale la pena guardare il video e poi soprattutto recuperare il film nella giornata di mercoledì in realtà ho pubblicato un altro video nel pomeriggio, nella tarda serata più o meno perché ho voluto condividere con voi un'idea che mi è venuta in mente in questi giorni un'idea sulla possibilità di realizzare un gioco qui nel canale una sorta di mondiale per film o una sorta di europei per restare in tema con quello che è l'argomento calcistico del momento una sorta di torneo di film che mi permetterebbe di proporvi attraverso dei video oppure attraverso degli short devo ancora capire bene come configurare il tutto mi permetterebbe come dicevo di proporvi delle sfide nelle quali chiaramente sareste voi a decidere il vincitore tra i diversi film che andrebbero a scontrarsi chiaramente questo mi porterebbe a scegliere tutti i film cioè a scegliere più che altro a selezionare tutti i film che hanno vinto la statuetta come miglior film nel corso della storia sono 96 e andare a realizzare un torneo attraverso inizialmente dei gruppi eliminatori e poi attraverso le classiche sfide ad eliminazione diretta quindi sareste voi a scegliere attraverso anche i commenti devo ancora capire bene come strutturare il tutto però ecco potrebbe essere un'idea per l'estate quindi fatemi sapere ulteriormente che cosa ne pensate vi spiego tutto nel dettaglio appunto nel video che ho pubblicato nella serata della giornata di mercoledì nella giornata di giovedì invece ho voluto pubblicare quello che è un video che ormai faccio già da diversi anni a questa parte all'inizio dell'estate e cioè una sorta di riepilogo generale molto generale devo dire di tutti i film che usciranno durante l'estate al cinema qui in Italia chiaramente ripeto è un film è un video come dire che ci permette di avere un'infarinatura abbastanza rapida di quelli che sono i titoli che arriveranno in sala poi nel dettaglio chiaramente io andrò di mese in mese come faccio sempre con il classico video di consigli per quanto riguarda le uscite in sala però ho voluto appunto pubblicare questo video di riassunto, di recap di quelli che sono i film che appunto secondo me sono maggiormente interessanti e che arriveranno in sala durante l'estate qui in Italia lo ribadisco quindi con quelli che sono i tempi di uscita qui in Italia alcuni sono film che in realtà già sono presenti in sala da alcuni giorni altri invece arriveranno nelle nostre sale a partire già dal mese di giugno e poi chiaramente a luglio, ad agosto e a settembre ho voluto proprio anche spingermi fino ai primi cioè agli ultimi giorni d'estate subito prima dell'inizio dell'autunno quindi recuperate il video che ho pubblicato nella giornata di giovedì nella giornata di venerdì invece l'altro ieri ho voluto pubblicare il primo episodio di una rubrica che ho provato anche a realizzare l'anno scorso ma senza grandi fortune c'è da dire perché perché l'anno scorso l'avevo come dire intesa come una rubrica settimanale ma mi sono reso conto che non riuscivo a tenere il ritmo in questo caso ho voluto invece ideare una rubrica di consigli a cadenza mensile e cioè i film da vedere in estate ma non soltanto in estate come ho anche precisato nel video perché sono dei video che sì, probabilmente hanno un'atmosfera tutta particolare e riescono in qualche modo anche a risultare maggiormente godibili e maggiormente gradevoli se visti durante il periodo estivo però nulla toglie che li si possa guardare in qualunque momento dell'anno perché nella stragrande maggioranza dei casi sono anche dei grandi film dei film indimenticabili quindi ho voluto realizzare il primo episodio di questa rubrica che appunto avrà una cadenza mensile quindi ne ho pubblicato uno adesso probabilmente ne arriverà un altro verso appunto il 20 21 di luglio poi ad agosto fino ad arrivare chiaramente a quella che sarà la fine dell'estate quindi ci saranno tre episodi l'ultimo sarà appunto l'episodio di agosto che ci accompagnerà chiaramente fino anche alla fine dell'estate durante il mese di settembre quindi 20 film tra l'altro ho voluto prendere in considerazione 20 film da vedere durante l'estate quindi trovate questo primo episodio nel canale chiaramente l'ho pubblicato nella giornata di venerdì quindi l'altro ieri 20 film da vedere in estate e non soltanto in estate nella giornata di ieri invece giornata di sabato e andiamo quindi a concludere questa settimana ho voluto pubblicare un'altra classifica una classifica che mi ha permesso in maniera indiretta anche di parlare di un film che è presente ancora nelle sale anche se credo penso che a breve sarà comunque tolto dalla programmazione e ho voluto pubblicare in particolar modo la classifica di quelli che sono i tutti i capitoli i vari capitoli del franchise di Bad Boys chiaramente abbiamo il quarto capitolo in sala Bad Boys Ride or Die che io ho visto proprio nei giorni scorsi e ho fatto tra l'altro in queste settimane un rewatch dei primi due capitoli che avevo un po' dimenticato chiaramente film degli anni 90 poi ho visto anche per la prima volta nei giorni scorsi il terzo capitolo Bad Boys for Life che non avevo ancora mai visto anche perché non mi aveva mai incuriosito poi ho visto il quarto e quindi nella giornata di ieri ho voluto pubblicare la mia breve classifica perché fondamentalmente stiamo parlando di una classifica con soli quattro film e io tra l'altro sono anche dell'idea e ho la sensazione che la saga di Bad Boys terminerà qui quindi non credo che ci saranno ulteriori capitoli ma staremo a vedere quindi nella giornata di ieri potete trovare la classifica chiaramente procedendo dalla quarta posizione dall'ultima posizione fino ad arrivare alla prima posizione tra l'altro il consiglio chiaramente di recuperare il video è una classifica molto particolare molto peculiare perché mi ha permesso di andare da una posizione ben precisa da un capitolo ben preciso fino a quella che poi sarà la prima posizione non mi voglio svelare nulla tra l'altro il video non è neanche lunghissimo quindi vi invito a recuperarlo l'ho pubblicato nella giornata di ieri tra l'altro poi ho pubblicato anche diversi short quindi trovate anche alcuni short pubblicati di recente qui nel canale e così chiudiamo quindi questa puntata della Cine Week io vi invito come sempre a farmi sapere qui nei commenti quelle che sono le vostre opinioni sui video che ho pubblicato chiaramente possiamo anche beccarci nella sezione commenti degli specifici video vi invito chiaramente a recuperarli io vi ringrazio come sempre per l'attenzione che decidete ogni volta di regalarmi guardando i miei video guardando anche la rubrica Cine Week io vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale ed è la cosa più importante che possiate fare lasciate eventualmente anche un mi piace a questo video commentatelo condividetelo così stimoliamo un po' l'algoritmo di YouTube io vi aspetto anche su Instagram su Facebook nel mio canale Telegram trovate i link in descrizione noi ci becchiamo in un prossimo video in una prossima video recensione in una delle tante rubriche che sto portando avanti nel mio canale già a partire dalla giornata di domani quindi inizia una nuova settimana chiaramente con la Cine Week noi ci vediamo domenica prossima domenica mattina prossima io vi auguro come sempre una buona giornata una buona domenica nello specifico e ci vediamo prestissimo ciao a tutti